Ciao fragoline e ciao fragolini! Allora nuovo video e come leggete dal titolo dopo che il video che ho fatto cioè la prima parte dei rispondi commenti degli haters ho visto che vi è piaciuto molto questo video che avevo fatto allora ho detto perché non fare la seconda parte dato che ho ricevuto altri commenti che poi sono pochi eh però dato che ho detto questi commenti che ho ricevuto sono ancora molto più forti per divertirci insieme e rispondere o ovviamente leggere insieme diciamo che io li chiamo haters però sinceramente non sono haters in poche parole io li chiamo così solo per fare diciamo il titolo perché sennò dovrei dire rispondo ai commenti ma sono commenti un po' offensivi un po' brutti non sono commenti belli per cui eh io li chiamo haters però non lo sono e per cui rispondiamo insieme i commenti che ho ricevuto che dovrebbero essere tre quattro forse cinque stranamente pochi però vabbè rispondiamo insieme ovviamente il nome e eh tutti i io prefererei non fare pubblicità a questi canali per cui cancello sempre il nome e non non li metto perché è brutto e tantomeno non per essere accusata di qualcosa di dire eh però tu mi hai messo il commento non c'entra niente anche perché i commenti sono pubblici li leggono tutti e posso fare questo video senza problemi per cui non posso non possono dirmi niente però dato che a me non piace sponsorizzare perché è come sponsorizzare un canale perché dici il nome del canale preferisco lasciare senza il nome poche parole solo vi lascio solo i commenti che vi metterò a fianco quando quando li leggo allora prima di iniziare questo video che di sicuro dura poco vi ricordo di lasciare un like se vi piace questa tipologia così farò la terza parte e continuo a farla che anche a me piace e mi diverto poi seguitemi su instagram e ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanellina mi raccomando iniziamo col primo commento allora il primo commento che adesso vedete è praticamente un video dove io ho fatto il grattevinci per chi guarda i miei video di grattevinci o i miei video normali diciamo diversi io quando faccio vedere le mani in settimana non sto lì a farmi la manicure o a farmi bene le mani mettermi diciamo come si deve cioè adesso sono truccata sono messa a posto sono diciamo bene ma perché sono riuscita a farlo cioè a mettermi a posto con il trucco eccetera perché se no non riuscivo calcolate che io in settimana lavoro per cui io non è che sto lì a mettermi lo smalto tantomeno lo smalto che io metto è al sabato nei weekend per cui lo smalto che lascio su dopo facendo quello che faccio io come lavoro calcolate che va via lo smalto non è che vi resta attaccato dove avete le mani perfette io vi dico questo perché nel commento che vi appare qua una ragazza praticamente ha scritto spendi i soldi per fare una manicure non per i grattini ne hai bisogno allora non ci vedo fino al computer perché è scritto in piccolino e vabbè comunque questo è il commento che ho ricevuto sotto i grattevinci ovviamente io ho risposto già a questa persona ma tanto anche se io rispondo a queste persone che scrivono questi commenti del genere non ti rispondono poi cioè è come se poi spariscono no a prescindere che non ha neanche la foto sul profilo per cui già può essere un fake perché ci sono molti canali fake che scrivono tanto per scrivere solo per fare arrabbiare le persone o tanto meno per offendere ma a me non mi è offeso di sicuro mi ha solo fatto ridere quello che ha scritto perché secondo me dovrebbe farsi gli affari suoi per non dire altre cose che non si può perché sono cose che mi riguardano a me non a lei per cui io ovviamente io ho scritto questo io ho scritto tesoro io lavoro tutti i giorni 24 ore non ho bisogno di manicure perfette dato che il mio lavoro me li rovina impara a non scrivere queste cose se non hai niente cos'è che ho scritto se non sai niente della mia vita saluti allora questo è il mio commento ovviamente giusto non volgare eccetera io gli ho scritto questo ma io non voglio dare spiegazione a questi commenti o tantomeno a queste persone perché se una mi segue veramente o uno mi segue veramente sa cosa faccio nella vita e tantomeno non ho solo youtube ho lavoro lavoro vuol dire che mi sveglio alle 5 anche alle 4 del mattino mi sveglio ogni tanto dal lunedì al sabato per cui io non è che non faccio un cavolo dalla mattina alla sera e tantomeno le mie mani non sono mai perfette se lavoro in quell'ambito che io ho già detto che lavoro faccio e non lo ripeto 300 mila volte per cui se il mio lavoro consiste di mettermi i guanti e fare quello che devo fare non posso avere delle unghie lunghe 3 metri come delle persone quelle che sono su instagram 24 ore su 24 a fare niente tantomeno a non capire cosa vuol dire lavorare e svegliarsi alle 5 alle 4 del mattino e ho detto già tutto per cui avere le mani perfettine come certa gente che mostra anche nei video che quelle persone sono quelle ovviamente che non fanno niente no perché tanto ci sono le altre persone che l'aiutano a fare queste cose invece io ovviamente mi faccio il culo vado a lavorare mi sveglio presto e non è che ho le mani perfettine questo è quello che voglio specificare quello che voglio dire andiamo avanti perché sì mi sto diciamo arrabbiando ma perché ogni volta devo sempre dare spiegazione tantomeno anche quando io poi riscrivo il commento e rispondo no non poi spariscono perché quando tu non rispondi ai loro commenti ovviamente sotto nei video ti rompono le scatoline e ti dicono eh ma non rispondi neanche i commenti perché ho ricevuto anche questi commenti del genere sotto un video vecchio non rispondo perché è inutile rispondere ai commenti del genere e infatti quando io poi rispondo le persone stanno zitte per cui questa è la mia risposta ovviamente sotto vedete anche un altro commento che è un ragazzo che mi segue veramente sul mio canale è sempre presente per cui grazie a Lorenzo che sei sempre presente nei miei video e ogni volta mi difende sotto nei commenti di questo genere grazie mille non so cosa dire per cui grazie per avere risposto a questa persona anche se non merita una risposta ovviamente il suo commento che adesso vi leggo è le mani perfette le hanno solo quelle che non lavorano è quello che ho detto io prima per cui grazie per difendermi sempre anche se vabbè io non ecco bisogno che qualcuno mi difende però grazie perché io ci tengo cioè vuol dire che qualcuno tiene a me in senso che risponde anche al posto mio perché io potrei anche non leggere i commenti perché certe volte non ho tempo mi sfugge e allora giustamente dico cavolo questo commento non l'ho letto poi quando leggo i commenti degli altri che leggo sotto che qualcuno ha risposto io dopo lo leggo dico però questo commento non è bello per cui non ci riesco neanche a stare sotto i commenti a leggerli tutti poi un altro commento che sinceramente non l'ho capito e non mi ricordo neanche che video è perché non ho messo sopra quando ho fatto la foto non ho messo il video lo screenshot del video per cui non so che video è comunque una mi scrive comunque è una festa pagana io sono contraria essendo credente ma sapete almeno a chi festeggiate io non so che cosa intende anche perché io poi ho scritto e io ho scritto cosa vuol dire con questo commento scusa e lei mi fa è anticristiana i morti si commenteranno non è di dio sta pagliacciata è contro la chiesa e poi non c'è già tanto orrore in questa vita è satanica e io ho scritto ma in tutto questo uno fa quello che vuole non capisco invece di commentare per il video di quello che ho fatto vedere il commento che hai scritto non c'entra niente cioè in senso che invece di commentare quello che io faccio vedere nel video io ricevo totalmente un commento diverso da quello che c'è nel video adesso non so quale è il video quale intende di video comunque questo è un commento strano che ho ricevuto e tantomeno non l'ho capita se voi l'avete capita fatemelo sapere però sono rimasta senza parole quando l'ho letto perché ho detto ma cosa sta scrivendo infatti certi guardano il video poi commentano dei commenti così alla cavolo e poi quando io li vado a leggere dico ma cosa che sta dicendo e ci rimango perché dico ma vabbè altri due commenti anche se perché 11 minuti ha parlato prima fin troppo solo per un commento che è l'unico forse che mi ha fatto girare un po' le scatoline no ma forse c'è anche questo commento che mi ha fatto un po' girare se magari si muove il computer dato che è troppo lento vi faccio vedere in più vi faccio vedere ok un altro commento è questo qua che è praticamente dove io uso la lavatrice e spiego diciamo come si usa eccetera no? e questa ragazza che credo che sarà una ragazzina non lo so ha scritto che noia come parli questo è stato il commento che mi ha fatto ridere ho detto ma questa ce la fa o cosa? e io gli ho scritto ovviamente perché allora hai guardato il mio video? non ho ricevuto neanche una risposta e il bello è che io ho commentato dopo tre ore che ho letto il commento perché alla fine io non leggo subito il commento e rispondo lo leggo dopo un po' almeno che non sono su youtube per cui io gli ho risposto un po' dopo tre ore e lei non mi ha ancora risposto per cui io gli ho scritto così ma secondo me ha capito che è noioso a lei di quello che ha scritto perché io mi domando se non ti piace il video perché commenti? prima perché lo guardi? perché guardi il video? perché commenti se non ti piace? se ti annoia? perché? spiegatemi perché guardate i video? se non vi piacciono tantomeno vi annoiano tanto quando aprite il video e vedete quei un minuto due minuti di video e poi vi dice che vale questa qua schiacciate it's it's vuol dire esci esci da questo video esci cosa te ne frega non puoi vederlo non guardarlo tanto la visualizzazione non l'ho tenuta lo stesso perché dopo che parte un minuto di visualizzazione io la tengo lo stesso la visualizzazione ovviamente guadagno di più con la pubblicità essendo che se tu non guardi tutto il video fino a quando non lo vedi tutto io ovviamente non è che ci guadagno tanto ma vabbè non ci guadagno lo stesso tanto però per farvi capire se guardi il mio video anche solo un minuto io la visualizzazione la ottengo e tantomeno se tu me lo guardi tutto il video io ovviamente guadagno di più con la pubblicità se tu mi hai guardato tutto il video questo per farvi capire comunque questo commento non ha senso mi ha dato noia a me a leggerlo perché ditemi voi che senso ha diciamo questo commento un altro commentino che sinceramente non l'ho capita per cui dovete dirmelo voi perché può essere un commentino così tanto per ridere ma c'è modo e modo diciamo di commentare come si deve non così tanto per commentare perché poi dopo quelle persone che leggono sotto i suoi video dicono ma questo cosa ha scritto perché l'ha scritto ed è questo qua ha 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 praticamente si è messo a ridere guardando il mio video dove vado a comprare l'iphone 11 e diciamo faccio vedere il telefono questo è il suo commento e io sotto gli ho scritto sto commento che cosa vuol dire come per dire perché mi metti questo commento che non ha senso in questo video e tantomeno a parte che non c'era neanche un emoji per farvi capire comunque si può essere un commento così tanto per però non ha senso e lui mi ha scritto era una risata nel senso buono tranquilla poi vabbè lui mi ha risposto ma io poi alla fine non ho più risposto perché alla fine ho detto perché devo perdere tempo a scrivergli se poi alla fine ha commentato così tanto per commentare almeno scrivi una cosa seria una cosa che ti ha colpito di più sul video che ho fatto tantomeno dimmi che bello questo telefono che ho comprato hai fatto bene punto stop ma riceve un commento così strano tanto per scriverlo a parte che vi dico io sui commenti non ci guadagno niente e tantomeno nei like like e commenti non ci guadagno niente l'unica cosa che guadagni su youtube sono le visualizzazioni come vi ho detto per cui o commenti o non commenti non è che mi cambia la vita ovviamente io preferisco che qualcuno commenta sotto i miei video per diciamo parlare insieme scambiarci consigli tutto perché credo che youtube è anche questo se io vi faccio vedere una cosa un prodotto no come si usa o che ne so voi se siete interessati a questo video che lo guardate anche sotto nei commenti mi scrivete però è interessante questo video il prodotto perché mi piace come come lei l'hai descritto mi piace tutto quello che hai fatto in questo video punto so e io so che questo video piace so che posso farne un altro più o meno così e basta ma se tu mi scrivi ad esempio ciao oppure ha 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 metti a ridere tu cosa vai a capire cioè tu hai fatto un video hai perso tempo tra corrente perché usi la corrente tempo per montare i video tempo per registrarlo per cosa per ricevere un commento che ho scritto anche ciao ciao io ricevo tantissimi commenti strani anche sul fatto ricevo sempre commenti che ho scritto ciao e io gli dico ciao e ciao ma se vuoi scrivere ciao scrivi ciao ma poi manda se mai un altro commento scrivi guarda mi è piaciuto questo video ma quasi quasi lo faccio anch'io così per farvi capire cioè è un commento un altro commento come dici ah che bello gli è piaciuto il video sono contenta non ho fatto il video così tanto per farlo ma ricevere ciao oppure anche come va buh cioè almeno scrivi ciao come va questo video mi è mi è piaciuto molto sei brava punto basta allora io poi dopo ti rispondo ma se tu mi scrivi ciao ogni giorno ogni giorno che vedo tantissimi commenti anche su questo genere cioè ma come faccio a capire se tu hai visto tutto il video tantomeno ti è piaciuto il video che hai guardato non lo so io ho perso tempo solo per appunto montare e registrare il video perché tu mi hai scritto solo ciao allora questo è quello che penso io voi potete pensare quello che volete comunque è così ovviamente ripeto i commenti brutti i commenti che mi stanno su li cancello se c'è da rispondere io rispondo se no i commenti brutti andranno nella terza parte perché io mi diverto a fare questo video e detto questo i commenti erano pochi e io ho fatto durare l'eternità sto video a furia di parlare parlare quando mi metto io a parlare ciao comunque spero che questa tipologia di video vi piace e ovviamente spero che vi sono piaciuti i commenti o le mie risposte fatemi sapere voi cosa ne pensate io la penso così e niente detto questo ci vediamo forse alla terza parte più avanti di sicuro forse alla nuova casa perché questo video credo che lo vedete fine marzo se non mi sbaglio o l'inizio di marzo io lo sto registrando a febbraio mi sto portando avanti con i video per cui credo che voi la prossima terza parte probabilmente sarà nella nuova casa quando sarò lì nella nuova casa almeno credo poi non so se ci sono non so se ci sono zero commenti o ce ne saranno tanti vediamo detto questo noi ci vediamo al prossimo video ciao